Bello, tranquillo, realistico, senza sogni ma con dei bei progetti, è quello di cui abbiamo bisogno adesso, proprio basta con le liti astratte sugli schieramenti, ha detto quello che farà in 5 anni e io sono sicuro che lo potrà fare, primo perché è persona seria, secondo perché sarà sindaco. La gente a Bologna capisce quei messaggi seri e credibili, stasera è stato un messaggio serio e credibile, basta con le fantasie, con l'idea di una città che non esiste, con problemi che sono problemi di altri, abbiamo sentito i nostri problemi e le nostre soluzioni. Questa era la premessa per una campagna elettorale che la gente capirà e quindi questa è la migliore garanzia per la città che è seria come Bologna. Oggi non abbiamo ascoltato un discorso di farfalle, la descrizione della realtà com'è, delle cose belle che si possono fare e di quello che i bolognesi vogliono, soprattutto quello che fa bene alla città come Bologna. Quindi io esco molto confortato e molto sereno. Poi Flavio è bravo, quindi ha gestito conti di strutture economiche complesse in momenti difficili. No, lo rimproverano di guardare i conti, beh, lo rimproverano che mi spiacerebbe fosse rivolto a un maggior numero di italiani. I bolognesi capiranno questo messaggio? I bolognesi capiscono. E che vedrà che l'ho capito.